musica, news, sport ogni giorno per te sul web leccochannel.it, bluelight, blu radio Alice innanzitutto benvenuta a Lecco, benvenuta alla cetubi pallavolo piccolecco arrivi dopo una carriera direi lunga e anche soddisfacente nel tuo palmarès c'è una prima cosa che si nota è un campionato vinto poi tre anni fa se non erro con Eliano B1, una categoria che forse non hai mai fatto o hai fatto in gioventù come ti approcci a questa realtà in cui ci sono tante ragazze anche giovani? Mi presento per quella che sono in realtà è per il percorso che mi porto dietro e come dicevo prima spero di portare la mia esperienza sportiva e personale alle ragazze giovani io sono soddisfatta della mia scelta e quindi non vedo l'ora di iniziare questo campionato che obiettivamente sono tanti anni in cui non sono presente però sono molto curiosa di vedere il livello e insomma di vedere come si svolge il tutto Breva una grafica, 34 anni, arrivi da Orvieto, Serie A2 arriva una squadra neopromossa che però a questo punto con il tuo innesto ricordiamo se è una schiacciatrice non può nascondere poi delle ambizioni di qualcosa di più rispetto alla salvezza? Ma guarda, io credo molto nella forza del gruppo quindi intanto partiamo con i piedi per terra a fare una stagione con soddisfazioni ovviamente ma tutto quello che arriva dopo è insomma di guadagnato quindi io direi che per ora l'obiettivo è rimanere in categoria e poi vediamo credo che sia comunque una stagione che possa regalarci delle soddisfazioni Infine andiamo sul lato un po' più spicciolo Coach Milano se lo conoscevi già e avevi già magari giocato conosciuto qualche delle tue attuali compagne da qualche giorno Coach Milano ho avuto l'occasione di giocarci contro ma tanti anni fa quando lui allenava Pavia ho avuto modo di lavorarci in questi giorni e sono molto contenta di come lavora sono molto soddisfatta e mentre lei ha le compagne io conosco Deborah Someo anche lei perché abbiamo giocato sempre contro però le altre non conosco nessuno quindi è tutta una novità per me e quindi sono doppiamente curiosa di iniziare tutto quanto Allora benvenuta sulla barca mettiamo così anche se giochiamo a pallavolo e in bocca al lupo buona stagione Alice Crepi il lupo, grazie mille News Sport Every day for you on the web Leco Channel.it The Blue Light Blue Radio